... Bene ragazzi, ora intervettiamo il caso. Come ci si sente a lavorare per Mario in un negozio fotistrafico? Beh, come ci si sente? Beh, perché tutte le mattine ti svegli, cioè che fai un lavoro nuovo, che fai la falegnameria, l'elettronica, l'elettrotecnica, a tutto. A volte anche il porno divo, cioè non mento dicendo che i risvolti porno di questa faccenda non sono male. Vengono tante ragazzette in negozio a cercarli? Ma a cercare no, principalmente, però io cerco loro. Quindi ripetiamo l'annuncio, trovate il vostro cast disponibile da Big Girl la mattina dalle 9 alle 13, il pomeriggio dalle 16 alle 20. Orari d'apertura, rile negozio, massimo servizio, massimo interesse. Ha aperto anche la domenica? Per questo momento no, apriremo per la fase estiva e per la fase invernale, abbiamo due francesi di apertura domenica. Io se so Piero Angelo. Visto che il gatto è una fede da freestyle a tutti gli effetti, vinci un po'. Qual è il tuo sport preferito e perché? Ma il mio preferito non è tanto lo sport quanto la compagnia e lo stalpe insieme a altra gente facendo quello che ci piace, che sia skate, che sia wakeboard, snowboard, surf, l'importante è stare insieme, divertisse, fa festa, come oggi. Io spero che si prospetti una bella giornata, insieme a voi di Board Action, i ragazzi di Vans, Red Bull e tutti quanti, io credo che ci siano i presupposti buoni per venire fuori una bomba, ragazzi. Stay tuned! Ciao, ciao!